Questa è la dimostrazione del teorema di Pitagora. Sul foglio è stato disegnato un triangolo rettangolo con sui suoi tre lati altrettanti quadrati. I due quadrati sui cateti del triangolo sono i più piccoli. E ora spostando i pezzettini di carta e ora spostando i pezzettini di carta Ora si può notare che i pezzettini che c'erano sui due quadrati più piccoli sono stati spostati su quello più grande e ricoprono la stessa area. Questo vuol dire che l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è la stessa di quella dei due quadrati costruiti sui cateti.